Allora ragazzi, bentornati! Andiamo a vedere la nuova missione di Watch Dogs 2 con il nostro Marcus Holloway Questa qua è la sfida e-kart Andiamo a battere quei ricchi mocciosi in una gara Allora, prendiamo una bella macchinina No, tranquilli, non è di strano Eccoci arrivati! Amici! Quindi una sfida di-kart in sostanza, di Fury Truck Mi arrendo, non posso continuare Che succede? Studio alla Oakland Advanced Tech Partecipiamo alla Noodle di Kart Challenge Ma perdiamo sempre Non riusciamo a battere le scuole più prestigiose Specialmente Stanford Hanno alle spalle le grosse società tecnologiche Noi solo Oakland Non c'è speranza Ehi, Oakland ha energia e grinta Oakland può farcela, sì Io sono di Oakland Mi piace come la pensi Vuoi essere il nostro pilota? Su, serio? Qualcuno deve farlo Questo, mi chiamo Marcus Piacere di conoscerti, Marcus Io sono Taylor Buona fortuna per la prima gara Ok Così, andata E go! Ma È molto più lento il nostro Non va bene Non possiamo usare niente, tra l'altro Non possiamo acerare nulla Tutti gli assi Quanti giri sono? Tre giri Dai, 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 dai E uno l'abbiamo soppassato Dai, Marcus Dai, dai, dai Spingi sta carretta Secondo giro Attenzione Eh, ma van troppo veloci Tirano giù anche i pali Non faccio a prenderli Mo' taglio così Per prenderli Eh, è l'unica, ragazzi Tra l'altro cart Che vanno a due chilometri orari Terzo giro Riesco ad affiancarmi in cima Poi se ne vanno Guardate come taglio qua Eh, per forza, ragazzi Per forza Per forza Guardate come taglio qua Oh là Sono primo No, non puoi passare stronzo No, non vale Non puoi passarmi Olè Signore Vince la prima gara La sua prima gara è di Eckhart Sì, sì Eh Sì, hai ragione Te ne cercherò una Tanti soldi I follower I follower salgono Che compensi abbiamo ricevuto 8000 follower E 4000 dollari Mmm Ottieni la nuova batteria Per le cart Andiamo Subito Ma Posso prendere un cart? Ho un meme Mettere fine a una carriera politica Uno non so Se fossero tantissimi Come tanti pugnalati Ma come guida Che diavolo Beh Dire di entrare a piedi Eh Ti avevo aperto Se noi saliamo Non ci vedono Mamma mamma Ci sono i cani? Eh Cos'è stato Non ti preoccupare Ci sono i cani C'è il cane Eh Vabbè Non fa nulla Ne avete 300 Mamma mia Mamma mia Mi dispiace Cavolo Dove sta la batteria Che nel frattempo La rubo No Dove va Va bene Dobbiamo scappare ragazzi Poi ci fanno se Ci siamo Ho la batteria Fantastico Portala Vediamo se ci da una mano Che si che ce la da una mano Eccola Salta di tutto E non salta due sbarre Alte mezzo metro Ehi Taylor Ecco la batteria Giusto in tempo La installeremo Mentre ti prepari a guidare Andiamo E si inizia In salita E noi tagliamo Perché la batteria Fa cagare Oh Però non puoi far così Eh Disgracciatino Eh non lo so come fanno Far cosa Ma qua si distruggono tutti Eh no Ma non posso Ma non posso usare qualcosa Nulla Non posso hackerarvi le batterie di cazzo Oh boiate Oh Oh mi tagliare la strada Anche te Sta fermo Vaffanculo Vaffanculo Ecco Vaffanculo Oh ci sono Ma non ci siamo proprio Ecco Per l'informazione Sono di nuovo ultimi Perfetto Da che ci sono Da che Sei di nuovo ultimo Eh Così è la vita Attenzione 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 Taglio Ma che palle Viva Ci sono Siamo arrivati terzi Dai va bene Perché è anche difficile Questa qua Eh cazzo Cioè Non è che sei arrivato ultimo Eh già Ottimo Ottieni il microchip Di velocità Ma c'è Ma c'hanno tutti L'allarme Ste macchine Spure gli scassoni Allora Vediamo un attimo Ragazzi Siamo praticamente Arrivati Il nostro Furgoncino Non è Nelle condizioni Migliori Ho fatto Qualche saltino Giù Giù in campagna Allora Allora Ehm No Non so che si entra Di qua si può entrare Sì Si può entrare Eh Eh ma che figata Ma che bello Ma posso farlo scivolo Posso? Mi sa che salendo di qua Potrei fare anche free climbing Però non lo fa No Ci infila la testa al muro Ma devo ottenere questo Ma che ci vuole molto Oppede Eh si Abbiamo pimpato il kart Ho trovato il chip di velocità E vai Non vedo l'ora di installarlo E andiamo a installare sto chip Chip the shop Ma che cazzo Ci fai là In quest'ultima gara Ci giochiamo tutto Marcus Lasciamo le case O la va o la spacca Hai l'occasione Di battere i grandi nomi Una volta per tutte Ci siamo Grandi nomi Di E-Kart Signore e signori Siamo all'ultima gara Di E-Kart E partiamo a cazzo Dal solito Oddio 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 Il cazzo Se n'è andato quello Oddio Chi s'ho la prima posizione ragazzi ecco non così ho anche un pochino di vantaggio ultimo giro ultime curve e marco solo sta per essere campione di e kart no mi son bloccato totalmente bloccato non sta dietro zio sta dietro che devo inserire forse non ci siamo capiti no ma che è sta mafio si fa così a chi ha fatto la grande vittoria per gli amico mio te lo dicevo che o cland poteva farcela avevi completamente ragione marcus è stato un piacere averti con noi ci vediamo taylor ricompiense 4.000 8.000 follower va bene così ma siamo noi vincitori che faccia di cazzo ah ora posso chiamare il kart e noodle nelle auto richiesta ragazzi per questo episodio è tutto e noi ci vediamo al prossimo ciao